La Fondazione Fioravante Polito di Castellabate, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo l'importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non agonistico, continua le sue attività per l'adesione al passaporto ematico. Nell'occasione, Mr. Longo, l'allenatore dell'Alessandria Calcio, ringrazia la Gelbison e la Castellanzanese per aver firmato il protocollo di intesa per il passaporto ematico e lancia l'appello che altre società dilettantistiche aderiscano per la tutela degli sportivi dalle scuole calcio in poi. Buonasera a tutti, sono Moreno Longo e volevo sensibilizzare tutto il calcio dilettantistico nella firma all'intesa sul protocollo del passaporto ematico intitolato da Andrea Fortunato. Nel frattempo volevo congratularmi con la Castellanzese e con la Gelbison per averlo già fatto e sensibilizzare ancora una volta tutto il mondo dilettantistico perché può essere davvero molto importante firmare il passaporto ematico proprio per la nostra salute. Grazie a tutti e buona serata.